Nella mia casa nuova, adesso mi trovo anche piuttosto bene, l'unico vero casino è che dove abito adesso non si trova parcheggio. Non so voi, abitate, trovate parcheggio agevolmente. Io abito in una zona che non so come dirti, se mi appare la Madonna, ho un posto macchina libero, miracolo vero, è il posto macchina libero. No, veramente, l'unica volta che mi apparsa la Madonna, l'ho guardata, nel frattempo Giuseppe mi ha fregato il parcheggio, per darvi l'idea! Per darvi l'idea! Allora, l'altro giorno non riuscivo a parcheggiare, ho lasciato un attimo la macchina in seconda fila, ma per bermi un caffè un attimo al bar, non avevo finito di buttarlo giù, sento suonare un clacson, quello che avevo chiuso un attimo, ho riuscito ad andare via lo stesso. Però per vendicarsi, mi ha strappato via un tergicristallo, mi ha piegato tutto l'altro, mi ha attaccato su un biglietto che ho scritto impara a parcheggiare, se trombi come parcheggi sei cornuto. Sotto scritto grande stronzo. Ho detto, vabbè, almeno non è anonimo, è firmato. Stronzo! Salgo in macchina, cintura, luci, parto lentamente, un attimo dopo squilla il telefonino che era mia moglie fa, Erminio, hai dimenticato a casa l'auricolare? Eh, non rispondere al telefono. Non ho fatto in tempo a mettere giù che trampa l'età dei carabinieri. Dico, questa è sfiga, automaticamente ho fatto un gesto scaramantico, va a sapere, i carabinieri l'hanno interpretato male, mi hanno subito detto, cosa ha lì in mezzo alle gambe? Scenda, le allarghi, metta le mani sul tetto. Dico, eh, va che non sono tanto alto, se metto le mani sul tetto non arrivo coi piedi per terra. Fa gambe larghe, mani sul tetto. Che tenere le gambe larghe quando sei attaccato al tetto della macchina? O sei un ricchicchi, o non è facile? A quel punto hanno iniziato a perquisirmi, ma con una foga, con una foga, insistevo proprio lì sul pisello, che non sembrava che mi perquisiva, sembrava proprio che mi palpava. Dopo un po', non capivo più se era prevenzione del crimine o preliminari. Ho detto, sta a vedere che sono finito nelle mani di due carabinieri della brigata Sadomaso, son girato a vedere se aveva la divisa tutta aderente in pelle, poi ho detto, scusi, ma siete del 112 o dell'899? Mi fa, ha ha ha, faccio, ho ho ho, fa non l'ho capito, dico, beh siete carabinieri, capiretto domani, fa non ho capito neanche questo, dico, beh se la faccio a spiegare da totti o da gattuso. Insomma, siamo andati avanti così per un bel po', poi siccome continuavo a palparmi, ho detto, guardi, faccia piano, non sono mai stato perquisito, mentre faccio arrampicata libera. Però vi dico onestamente, per la prima volta ho capito perché su certe macchine mettono le barre, porta tutto sul tetto. Se è più comodo, da pendati mentre ti perquisiscono. A certo punto uno dei due carabiniere ha guardato l'altro, mi indica, fa, beh, ma che faccia che c'ha questo qua? Secondo me ha passato la notte a ballare, impasticarsi. Ho detto, guardi, è lunedì, sono le 8 del mattino, sono vestito di blu, ho una saldatrice nel bagagliaio, secondo lei, faccio il cubista al Copacabana? O faccio il metalmeccanico in fabbrica? Fa, vabbè, ho capito, ma già che ci lavora, la prossima volta che veniamo al Copacabana ci faccio entrare gratis. A quel punto, no, ma, a quel punto, sono fatti veri. Qual altro carabiniere che sembrava più gentile, fa, vabbè, però, già che siamo qui, facciamogli l'alcol test, dico, guardi, gentilissimo, come avesse accettato, ma un po' presto stamattina, fa, no, no, non può rifiutarsi, mi dà sto palloncino, dice, soffi qui, soffio dentro, lui lo guarda, fa, lei è positivo, dico, positivo, to, diciamo che sono ottimista, via! Fa, no, no, lei è un po' troppo allegro, dico, troppo allegro, prendo la vita così come viene, fa, no, lei prende l'acqua vita così come viene, è positivo l'alcol test. Multa, che ho detto, ma come cacchio faccio a essere positivo che non ho bevuto niente? Poi mi è venuto in mente, bevuto il caffè di corsa al bar, di resto ho mandato un moncheri, l'ho buttato giù, mi ha fregato la ciliegina, i carabinieri fa, non faccelo spiritoso, lei ha troppo alcol nel sangue, dico, vabbè, appena arrivo a casa faccio un prelievo, fa, per vedersi vero, dico, no, no, per imbottigliarlo, ha mai tolto anche i punti della patente, che io lì mi sono incacchiato e prima di ripartire, signora, ho chiamato mia moglie, ho detto, hey, Giovanna, va che per colpa della tua telefonata, mi hanno fermato i carabinieri, mi hanno trovato l'alcol nel sangue e mi hanno tolto dieci punti della patente grazie a tutti